Nel corso dell'incontro per nuove misure di sicurezza a bordo degli autobus, cui hanno partecipato il prefetto di Pistoia, Giorlando Iorio, Sindacati e Copit, sono state prese alcune decisioni. La prima è di montare telecamere a bordo dei bus, potenziandone il campo di inquadratura delle immagini, in modo da individuare eventuali aggressori e danni del conducente, dei passeggeri o danneggiamenti ai mezzi. Copit Spa si è impegnata a attivarsi immediatamente per acquisire dalla motorizzazione civile di Pistoia informazioni sulla possibilità di modificare l'interno delle cabine di guida, montandovi paratie per attuare un distanziamento fisico tra conducenti e passeggeri. Il provvedimento hanno sottolineato i sindacati già adottati in altre province della Toscana. Si è poi deciso di collocare sugli autobus adeguata informazione sulla presenza di telecamere che registrino H24 e l'attività a bordo, con immagini a disposizione delle forze dell'ordine qualora richieste. Copit si è impegnata a acquistare mezzi dotati di cabine di guida chiusa anti-intrusione. C'è stata quindi la richiesta di interessamento all'azienda di trasporto sulla formazione di dipendenti in grado di ricoprire la carica di addetto ausiliario del traffico, con la possibilità di coagliuare i controlli dei biglietti a bordo. Il prefetto è stato chiesto un ulteriore impegno delle forze dell'ordine nelle attività di presidio del territorio e sui punti di maggior criticità per l'ordine pubblico.